C'era la disponibilità degli allenamenti, delle partite nuove, ma non direi che mi hai dato la disponibilità. Chi? C'era che è stato un'altra. E poi ora voglio vedere tu tanto il direttore sportivo delle persone che hanno avuto. Già il direttore di Tavorecchè è... No, ma va, è una domenica che non ha malato. Viste, io mi sono sicurato. Erika già ha la postura del giocarrì, c'è il campo è basso. E tu c'ho di la macchina. Ma che cazzo ho messo le mani qua? Oh, non andava lì, c'è poco. Ecco qua. La treda d'amore, ma èします contà? Sì, parte. Questa non è domando dal giorno? Sì! Grazie.